Questo è un programma su come cambiare la vostra vita. Non nel modo tradizionale a cui pensiamo quando pensiamo di cambiare le nostre vite. Solitamente questo significa cambiare i comportamenti, riaddestrarsi, riallenarsi, sviluppare nuove abitudini e poi mettere in pratica per cambiare la propria vita. Qui invece parliamo di cambiare i pensieri e poi di conseguenza cambierà la vostra vita. Cambiate i vostri pensieri, cambiate la vostra vita. Come cambiare modo di pensare per vivere meglio è il titolo del libro, è il titolo di questo programma e io sono a sostegno di questo perché dentro noi abbiamo la capacità e l'abilità nel modo in cui usiamo la nostra mente, nel modo in cui elaboriamo le cose e gli eventi. Abbiamo la possibilità di cambiare completamente la nostra vita e vi posso dire che non importa la vostra età se siete adolescenti che guardate questo programma oppure se avete 60, 70, 80 anni o qualunque età, potete cambiare comunque. Ve lo dico perché è accaduto anche a me. Due anni fa, il 10 maggio, ho compiuto 65 anni e il giorno successivo, l'11 di maggio, è accaduta una cosa che mi ha cambiato la vita. Ho cambiato il modo in cui pensavo in merito a chi sono, il tipo di uomo che sono, in merito al tipo di persona che intendo essere per il resto della mia vita, cioè dove sto andando e qualcosa è iniziato a entrare in risonanza con me e ho dovuto cambiare, ho dovuto attuare un cambiamento all'età di 65 anni. Avevo un ufficio meraviglioso, in realtà era una casa di città piena di più di 20.000 libri, piena di abiti, l'ufficio era pieno di dischi di ogni genere, avevo quadri alle pareti, avevo tutti i premi ricevuti nel corso degli anni, tutto quello che avevo accumulato letteralmente in questo mondo fisico. Tutto era accumulato in quell'ufficio. Ho girato le chiavi della porta, ho dato le chiavi a Maya, la mia assistente che lavora con me da oltre 30 anni e le ho detto devi vendere tutto o distribuire tutto quello che c'è qui dentro. Vendi anche questo appartamento, prendi tutti i dischi, tutti i libri, ho anche eliminato le scarpe e mi sono lasciato tutto alle spalle, ho dato tutto alla mia assistente per eliminare tutto. Mi sono staccato da una vita intera di cose accumulate e mi sono trasferito a tempo pieno in un luogo nel mezzo del Pacifico, una delle fantastiche isole che abbiamo, che si chiama Maui. Nei mesi successivi ho iniziato a ricevere tante cose in merito a quello che sarebbe stata la mia vita, cose che non mi aspettavo neanche. Penso a questa idea, l'età, l'età che avete, pensateci e se si possono attuare cambiamenti e quanto può essere difficile secondo le persone, questa cosa è impossibile, non potrei mai fare questa cosa perché ci sono troppe cose, sono troppo vecchio, vivo in questo luogo da troppo tempo. Ecco magari qui in questo pubblico, pensate così, qui nel pubblico c'è una donna che io adoro, che più di qualunque altra donna mi accende nel mondo appunto professionale, all'età di 60 anni ha cambiato pensiero e la sua vita è cambiata radicalmente. Ha avviato una casa editrice, A House, che è una delle case editrici più famose al mondo per materiali sulla coscienza, ha scritto un libro, potete, puoi guarire la tua vita. Eccola qua, il suo nome è Louise, Louise Hay. Louise, puoi alzarti per cortesia? Grazie. Louise ha appena festeggiato l'ottantesimo compleanno, Louise, come tante altre persone al mondo e come tanti sanno. Mi piacerebbe avere il suo bell'aspetto, non ce l'ho neanche a 60 anni, quindi sono davvero onorato di essere qui e di averti qui, cara. Quello che è accaduto per me nei mesi successivi a quell'evento mi ha cambiato completamente la vita. Un amico che era dipendente da un sacco di droghe e altre sostanze, era vicino alla morte, ha rifiutato qualunque trattamento, qualunque tipo di supporto, ma ha letto un libro e il libro era il Tao Te Ching. Tao significa la via in cinese antico. Te è il termine che indica l'applicazione di o la virtù di e Qin in cinese antico significa libro. Dunque è il libro per applicare la virtù di vivere la via. Ecco cosa significa il titolo del libro. Il libro della via e della virtù. Avevo sentito parlare del Tao Te Ching, avevo sentito parlare di taoismo, conoscevo queste cose quando ero alle superiori, ho letto un po' quando ho insegnato nell'università di New York City, avevo anche insegnato alcuni concetti. Il Tao era qualcosa di cui avevo una leggera consapevolezza, generica, ma non mi ero mai interessato veramente. Guardavo ogni tanto programmi televisivi, qualcuno parlava di Tao, mi interessava. Entro in una libreria e c'era una copia del Tao. Questo è accaduto nei sei mesi tra quando me ne sono andato e quel momento lì, sapendo che mi ero distaccato da tutte le cose che avevano fatto parte della mia vita e volevo entrare in una nuova area della mia vita. Quindi a quel punto non potevo più resistere e ho detto voglio davvero leggere il Tao e mi prenderò un intero anno, il prossimo anno. In quell'anno quello che voglio fare è voglio leggere ciascun verso. Ci sono 81 versi nel Tao Te Ching. Lo si può leggere interamente in un giorno, ma lo si può anche studiare per una vita. Io ho detto voglio prendere 365 giorni del prossimo anno e ogni quattro giorni leggerò un verso del Tao. Alcuni versi sono lunghi quattro righe, altri molto di più. E ho detto voglio crearmi un modo per vedere se posso vivere questo Tao. E quello che ho fatto è che è stato questo. Ho pensato prima leggo, poi medito, cammino, nuoto, mettendolo in pratica, vado a nuotare, lo metto in pratica e ho anche un'immagine dell'uomo che è stato considerato l'autore del Tao. In realtà non c'è un documento storico, però è un'immagine di Lao Tzu. Eccolo qua. Questo è un disegno di un artista che rappresenta Lao Tzu, che significa anziano in antico cinese. Era un anziano che viveva in Cina ai tempi degli stati quando erano in guerra. E ha detto che non voleva più avere a che fare con la guerra, l'odio, eccetera. E' salito sul suo bue e se n'è andato. Prima di andarsene, per stare da solo, ha dettato circa 5.000 caratteri cinesi, questi 81 versi che poi sono diventati il Tao Te Ching. Ci sono persone che chiamano il Tao Te Ching il libro più saggio mai scritto. Se andate su Google, questa cosa che si chiama Tao Te Ching vi dà più di 1.300.000 voci relative al Tao Te Ching. Non solo questo, ci sono 14.000 traduzioni diverse del Tao Te Ching che io ho trovato. Quindi quello che ho fatto è stato prenderne 10 di queste traduzioni, quelle che mi sembravano essere più rilevanti, quelle che mi sembravano avere il maggior significato per le persone che vivono in questa parte del mondo occidentale. E ho messo insieme una versione che mi è parsa essere quella più utile del Tao Te Ching. Ogni mattina mi alzavo, osservavo questa immagine e chiedevo, cos'è che diresti tu alle persone che vivono ora in questo tempo, date le condizioni che noi abbiamo nella nostra vita in questa parte del mondo, cos'è che faresti tu? Molte persone lo chiamano un manuale per raggiungere una via della vita che letteralmente garantisce integrità, gioia, pace ed equilibrio nella nostra vita. Ora c'era un uomo che era contemporaneo di Lao Tzu ed era Confucio, era molto più giovane di Lao Tzu, ma continuava a sentire parlare di questo anziano che aveva tutta questa grande saggezza e un giorno ha deciso di andare, così dice la leggenda, a far visita a Lao Tzu e trascorse un'intera giornata ad ascoltare questo uomo perché Confucio era una persona in Cina che aveva definito tutte le regole e le etichette di come comportarsi, cercava di dettare alle persone come dovevano essere, invece Lao Tzu non aveva nulla a che vedere con questo. Quando andò a trovare Lao Tzu, tornò e parlò a tutte le sue persone alle genti e questo disse, degli uccelli so che hanno le ali per volare, dei pesci so che hanno le pinne per nuotare, delle bestie selvagge so che hanno zampe per correre, per le zampe ci sono le trappole, per le pinne ci sono le reti, per le ali ci sono le frecce, ma chissà come i draghi prendono il vento e arrivano al cielo. Questo giorno ho visto Lao Tzu, oggi ho visto Lao Tzu e lui è un drago ed ecco qua l'immagine del drago. Il drago in cinese antico era riferito a un'immagine di qualcuno o qualcosa che era completamente misterioso e difficile da comprendere perché poteva essere sempre qualcos'altro, si trasformava. C'era un grande insegnante che arrivò molto dopo, si chiama Rumi, un grande poeta persiano del XIV secolo e lui ha scritto, il giorno in cui sei nato una scala è stata allestita per aiutarti a scappare da questo mondo, così scrisse. Io credo che il Tao Te Ching e questa cosa che io ho fatto, questo come cambiare modo di pensare per vivere meglio. Ho dedicato un intero anno a fare quello che ho esattamente detto ogni giorno. Questo credo che sia una scala che vi aiuterà a ritornare. E nel Tao c'è un verso, verso 40 molto importante, che dice ritornare è il movimento del Tao, il ritorno è il movimento del Tao.